Di Enrico Colle In Italia ci sono due persone, una di queste è Enrico Colle, è il frasabba del mobile in qualche modo e quindi è un enorme privilegio averlo a Faenza, città dove ormai dovrebbero dargli la cittadinanza perché anche uno studioso ha partecipato ai convegni su Felice Gianni a Palazzo Milzetti. Insomma io lascio la parola a Enrico Colle con molta gratitudine per averci beneficiato della sua presenza stasera. Enrico grazie. Grazie a te. Grazie della bella presentazione. E' stato un caso praticamente come molti casi della vita che mi ha portato a incontrare il tavolo che si conserva nel vostro museo qui a Faenza, il tavolo che era appartenuto a Frasabba di Castiglione. Perché l'anno scorso mi si presentò l'occasione di studiare un tavolo analogo, proprio con, non dico le stesse decorazioni, poi lo vedremo, e con gli stessi motti, con un altro tavolo fatto per probabilmente un altro intellettuale dell'epoca come lo era Frasabba Castiglione. E proprio studiando naturalmente l'autore di questo tavolo che è Fra Damiano da Bergamo, mi sono imbattuto in tante notizie, in tante vicende anche di questo frate intarsiatore, che è stato tra i primi a realizzare mobili per uso privato. Perché fino ad oggi si conoscevano solo il tavolo realizzato per Francesco Guicciardini che vedremo, il tavolo per Frasabba di Castiglione e questo sarebbe il terzo tavolo. A queste date, cioè a date della prima metà del Cinquecento, non esistono mobili documentati per uso civile, solo grandi complessi monastici, grandi complessi di tarsie eseguite per le chiese. E quindi la rarità di questo ritrovamento, lo studio parlandone con Roberta, lo studio su Fra Damiano, ci hanno portato a dire perché non condividere insieme a voi quello che è stata la mia ricerca. E quindi vorrei partire da coloro che si sono occupati. Naturalmente studiando il tavolo, ho visto che il primo che si è occupato di Fra Damiano è stato il padre Venturino Alce, che ha scritto molto sul frate. Poi anche un'amica che mi piace ricordare, marchigiana, ma che viveva a Firenze, studiosa del mobile e soprattutto del Rinascimento, che è Maddalena Trionfi Onorati. E poi ultimamente c'è stata una mostra anche a Bologna dedicata ad alcune opere di Fra Damiano, curata da Lorenzo Mascheretti. Quindi questi sono i personaggi con cui mi sono confrontato durante le ricerche e poi ce ne sono delle altre, soprattutto per quanto riguarda Far Sab da Castiglione. Ha conosciuto una grande fortuna critica e molti hanno scritto sia sul personaggio, che naturalmente era il fratello del più importante Baldassare, ma anche lui era stato un intellettuale di tutto rispetto, come vedremo, e che si era interessato ad un argomento, a me caro, cioè quello degli interni delle abitazioni e come si dovevano arredare, ma più che arredare, come si dovevano allestire secondo un gusto sobrio che conveniva al proprietario e soprattutto agli intellettuali. Perché, come vedete da queste prime immagini, sono due dipinti di Vittore Carpaccio, uno è la nascita della Vergine del 1504, che vedete in alto, e poi... ah, scusate... ecco, fatto. Ecco, la nascita della Vergine del 1504 e sotto la visione di Sant'Agostino del 1502, le uniche testimonianze visive di come poteva essere arredato un interno è quello di una camera da letto dove in genere si riceveva nelle dimore del Rinascimento. e o di uno studio che era l'altro ambiente più arredato rispetto agli altri che invece erano allestiti a seconda delle cerimonie via via o con arazze o con tapezzerie e con mobili di fortuna. Quindi le uniche testimonianze sono questi due ambienti e noi ci focalizzeremo più sull'ambiente più intellettuale, quello dello studiolo. Fra Damiano Zambelli, detto anche Fra Damiano da Bergamo, nacque intorno al 1480 a Bergamo, appunto, e proveniva da una famiglia di maestri del Legname, attività che più tardi poi condivise con gli altri fratelli Andrea e Stefano, e con un parente, uno di questi due fratelli, Andrea se non sbaglio era intagliatore addirittura, e con un parente, altro intagliatore più tardi, che si chiamava Giovanni Francesco di Lorenzo. Più giovane, era più giovane di lui perché nel 1527 a Bologna è definito dalle documenti come Garzone di Fra Damiano, e più tardi solo firmò delle tarsie nel coro della cattedrale di San Lorenzo a Genova, quindi era più giovane. E secondo la testimonianza di Marcantonio Michiel, autore di un itinerario storico-artistico compilato entro gli anni 40 del Cinquecento, col titolo Notizie d'opere di disegno, Fra Damiano sappiamo che si formò, dopo aver avuto probabilmente un apprendistato, essendo la sua famiglia maestri di lignami, come venivano definiti, dopo un breve apprendistato all'interno della bottega di famiglia, andò a Venezia, e sì, per perfezionarsi. Dice appunto proprio Marcantonio Michiel, in la cappella maggiore, e qui si tratta della cappella di una chiesa di cui parleremo, Santi Stefano e Domenico, dove lui aveva eseguito alcuni pannelli che poi furono trasferiti in altra sede, in la cappella maggiore, gli banchi di Tarsia sono de man de Fra Damiano Bergamasco, converso in San Domenico, che fu discepolo di Fra Schiavon in Venezia, e qui c'è una lacuna, non si conosce il nome, gli disegni de Ditte Tarsie furono de Man de Trozzo da Monza, un architetto di cui non sono note le opere, e de Bernardo da Trevi, cioè da Treviglio, e questo è un artista ben più famoso, ed è zenale, del Bramantino e altri, e sono storie del testamento vecchio e prospettive, e qua già ci definisce quello che era la qualifica con cui Fra Damiano poi andrà ad eseguire le sue Tarsie, cioè Tarsie di prospettiva, e proprio secondo la moda che si era restaurata dalla fine del Quattrocento, cioè, faccio vedere alcuni Tarsi eseguiti tra questo e Antonio Manetti e Andrea Di Lazzaro, sono i rivestimenti della Sagrestia del Duomo di Firenze, siamo intorno alla metà del secolo, 1445-63, e queste Tarsie furono poi completate da Giuliano Dammaiano, si possono vedere come vi sono già i personaggi inseriti dentro delle nicchie, poi ci sono delle figurazioni prospettiche, secondo la moda del tempo, che verrà poi dopo continuata da Giuliano Dammaiano, sempre nella seconda metà del Quattrocento, nel famoso studiolo di Urbino, che qui vediamo, mostra uno scorcio, e studiolo che poi fu ripreso anche da Isabella d'Este a Mantua, perché una sua cognata aveva sposato proprio Francesco II Gonzaga, quindi c'era come un legame tra le corte di Urbino e la corte di Mantua, e le Tarsie di Isabella, quelle fatte per lo studiolo di Isabella, furono fatte dai Della Mola, che erano degli intarsiatori attivi, come vedremo, a Venezia, nella Sagrestia di San Marco, proprio agli inizi del Cinquecento, quando arriva Fradamiano. Questi sono, per farvi vedere appunto, questo gusto per gli scorci prospettici, che poi saranno abituali nelle Tarsie, quasi una sigla delle Tarsie di Fradamiano. Questo è Bernardino da Lendinara, sono il particolare di un tronetto del 1494, che si trova a Parma, nella Galleria Nazionale, e i Lendinara fanno parte di quella tradizione linearia padana, che il nostro intarsiatore non poteva non aver visto, in qualche modo, come per esempio questi due intarsi, questi intarsi eseguiti nel coro vecchio di Santa Giustina Padova, sempre intorno agli anni Settanta del Quattrocento, con vedute di architetture in prospettiva. E soprattutto, quando si trova a Venezia, alla scuola dello Schiavon, ha visto sicuramente quelle, come vi dicevo prima, le Tarsie di Antonio e Paolo Mola, che furono compiute tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. E sono avvicinate proprio alle opere di Carpaccio, proprio per quel spiegatissimo ordine spaziale che si ritrova anche nelle storie, poi, di Sant'Orsola. Vedete soprattutto quel particolare che ora vi faccio vedere a destra, c'è quell'imbarcazione, quella nave che sembra quasi sfondare il molo e venire verso di noi, così inquadrata tra le prospettive. Non solo alla scuola dello Schiavone, si formò anche Fra Giovanni da Verona, un altro intarsiatore importantissimo per la diffusione della Tarsia prospettica in Italia. Era nato alla metà del secolo a Verona, come dice il nome, entrò nell'ordine dei Benedettini e realizzò Tarsie straordinarie nell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore nelle vicinanze di Siena, lavorò anche a Roma, molto tra Perugia e Spoleto, per esempio, in luoghi dove anche Fra Damiano, in qualche modo a Perugia, per esempio, fu chiamato per eseguire delle Tarsie e dopo la breve permanenza in Umbria, Fra Giovanni da Verona, si trasferì nella sua città d'origine ed eseguì queste Tarsie che voi vedete nel 1493 in Santa Maria in Organo. Io penso, siccome Fra Damiano si sposta da Bergamo a Venezia e Verona è sulla traiettoria per andare a Venezia, non è detto che non si fosse fermato a guardare queste che sono, sono, forono lodate anche all'epoca come i capolavori delle Tarsie prospettiche. e di fatti, se voi vedete, vedete proprio questa veduta prospettica di una delle Tarsie di Fra Giovanni da Verona e una delle prime Tarsie che Fra Damiano compie nella famosa chiesa di Santo Stefano e Domenico, poi furono trasferiti in un'altra chiesa di San Bartolomeo, sempre a Bergamo, è una veduta di un campiello proprio realizzato secondo i criteri impariati dallo Scevon a Venezia e secondo anche quelle direttive che aveva potuto scorgere nei Mola in San Marco. Questa è la prima commissione che Fra Damiano ebbe diffudata da un nobile Alessandro Martinengo Colleoni che era il nipote del più celebre condottiero Bartolomeo e per fare queste Tarsie assunse un giovane intarsiatore che è Francesco Capoferri. Più tardi sarà l'autore dell'enorme ciclo di Tarsie disegnate dal lotto per la chiesa bergamasca di Santa Maria Maggiore che è il ciclo più anche corposo di Tarsie che ci è rimasto del Cinquecento dell'inizio del Cinquecento e vi faccio vedere un'immagine appunto della chiesa di Santa Maria Maggiore e il particolare delle Tarsie che rivestono tutte le pareti e il transetto poi frontale disegnate dal lotto. e proprio l'otto questa commissione avrebbe dovuto essere stata affidata al nostro fradamiano ma con l'otto si instaurò un cattivissimo rapporto e addirittura questi screzzi tra il pittore e l'intarsiatore portarono ad una lettera del 1526 dell'otto che definì proprio il nostro fradamiano ignorante e di poca religione de Cristo quindi un vero e proprio insulto e questo si spiega perché di lì a poco fradamiano lasciò Bergamo per dirigersi a Bologna e lo troviamo nel convento di San Domenico alloggiato e dove gli danno l'incarico di realizzare le Tarsie undossale per il presbiterio che qui vediamo nella diapositiva e appunto arriva qui con il suo giovane parente con il Giovanni Francesco di Lorenzo Zambelli che lo assisterà in questi anni terminato il lavoro delle Tarsie della Sparliera i frati decidono anche di rivestire le pareti della cappella dell'arca di San Domenico e il padre umanista bolognese Leandro Alberti finanziò l'opera e fornì tutti i disegni preparatori con le Tarsie che illustrano gli episodi dell'Antico Testamento e della vita di San Domenico e qui vediamo il battesimo di San Domenico la cappella in seguito fu abbattuta le Tarsie trasportate in Sagrestia e riadattate a sportelli degli armadi però ecco tutte queste spese sostenute dai frati avevano creato una sorta di deficit nel convento che spinsero i religiosi a sospendere tutte le attività di lavoro del frate ed egli a questo punto si dedicò a commissioni esterne all'ordine solo nel 1536 i frati commissionarono la costruzione del nuovo coro della chiesa un coro anche questo monumentale che prende tutta l'abside e è l'opera che impegnò tutti gli ultimi anni dell'artista dal 1541 fino con l'acquisto dei legnami fino al 1544 quando al frate si aggiunse il fratello Stefano Zambelli e uno e altri numerosi collaboratori tra i quali anche e qui si può vedere il particolare questa è una delle tarsie e vedete la parasta quel particolare disegno ornamentale in legno più scuro che contornano le dividono le varie tarsie fu presa anche a modello da fra Antonio dall'unigiana nelle porte qui vi faccio vedere un particolare dei pannelli delle porte quindi anche lui prende la moda degli intarsi prospettici in questi anni della prima siamo sempre nella prima metà del quattrocento e però riprende da fra Damiano l'uso di queste decorazioni a grottesca chiamiamole queste cesellature che venivano un po' dall'arte islamica come potremmo vedere fra Damiano non vide conclusa l'opera di questo coro perché morì il 30 agosto del 1549 e quindi questa fu la sua ultima attività ma arriviamo al tema che più ci prende durante questi anni egli lavorò anche per altri ordini religiosi e per committenze private laiche nel 1530 fu chiamato dal governo genovese per un viaggio nella città al fine di esaminare il coro della cattedrale di San Lorenzo dove lavorerà tra il 1539 e il 1540 con il suo giovane parente sempre che poi prenderà lui in carico il lavoro della cattedrale nel 1530 a te l'avevamo accennato è a Perugia chiamato a lavorare alle tarsie del coro insieme all'opera del fratello Stefano ecco Stefano era intagliatore e poi ancora nel 1536 ritorna a Perugia per fornire le tarsie della porta del coro quindi oltre alla realizzazione di questi arredi liturdici la produzione artistica di Fardamano prevedeva anche l'innovativa esecuzione di quadri di tarsia destinati a un precoce collezionismo privato ecco qui è il primo che si rivolge ai collezionisti privati e la committenza di questi collezionisti era tratta dal suo virtuosismo nell'intarsio prospettico soprattutto e tra i primi esprimatori ci fu Carlo V che in compagnia qui lo vediamo in un'incisione che in compagnia di Alfonso Destre avrebbe ricevuto dal converso una tarsia raffigurante una crocifissione pensiamo una tarsia simile a questa questa non è quella ma abbiamo visto prima tornando indietro vediamo la incoronazione di Carlo V imperatore a Bologna nell'incisione e venne celebrata questa incoronazione nel 1530 Carlo V andò a vedere proprio le tarsie in San nella chiesa dei frati di San Domenico ed è rimasto estasiato dalla produzione appunto del frate tanto da averne chiederne un pannello ma anche Papa Paolo III Frannese che qui vediamo in un ritratto famoso di Tiziano fu destinatario nel 1536 di una di un'ancona di una piccola pala con la conversione di Saulo che gli fu portata a Roma dallo stesso intarsiatore e anche questa però ahimè è andata perduta non è andata perduta ma è a New York al Metropolitan Museum la boiserie della cappella di Baty d'Urfé verso nel Forêt in Francia proprio a seguito di Carlo V in occasione del concilio di Trento nel 1547 Claude D'Urfé era l'ambasciatore del re francese presso proprio il consiglio del Trento e si ferma a Bologna a modo di vedere le tarsie di fra Damiano e vuole creare un'intera cappella che poi dopo dai discendenti fu venduta ed ora si trova come vi dicevo al Metropolitan fu suddata da una studiosa di questo periodo di queste tarsie che era Olga Raggio nei 41 pannelli realizzati si alternano infatti alle torie sacre impaginate dentro delle architetture come faceva lui composizioni di nature morte motivi decorativi geometrici che ripetono quelli presenti anche nel coro bolognese le tarsie del coro furono terminate nel 1849 come avevamo detto quelle del coro del nostro coro ma in una lettera a causa della morte del maestro cosa che fu fatta tra il 1550 e il 53 quando una lettera di Fra Agostino Terzi segretario della misericordia di Bergamo si viene a sapere che una gran quantità di pubblico faceva gara per andare a questa nostra chiesa per vedere il coro reputato per uno dei maggiori miracoli del mondo e naturalmente questo eco non poteva non raggiungere anche personaggi importantissimi come il cardinale Giovanni Salviati che era figlio di Jacopo Salviati e Lucrezia dei Medici quindi era per parte di madre nipote del Papa Leone X e anche suo fratello Bernardo fu a sua volta cardinale le sue parentele lo portarono ad essere anche zio del Granduca di Toscana Cosimo I e del cardinale Alessandro dei Medici futuro Papa Leone XI fu nominato amministratore nel 1517 amministratore apostolico di Ferrara e quindi venne a contatto con Fra Damiano a cui rimase molto interessato dalle sue opere e gli fornì un disegno sanguigno eseguito dal prittore Francesco De Rossi per tradurlo in Tarsia che era detto il Salviati e il Vasari scrive a questo proposito avendo desiderio di avere un quadro di legni tinti cioè di Tarsia di mano di Fra Damiano da Bergamo converso di San Domenico in Bologna gli mandò un disegno come volea lo facesse di mano di Francesco fatto appunto dei Salviati fatto di lapis rosso il quale disegno che rappresentò Re David unto da Samuello fu la miglior cosa e veramente rarissima che mai disegnasse Cecchino Salviati e anche di questa Tarsia si sono perse le tracce ma come di tante opere come nel caso del nostro tavolo può ritornare a galla da un momento all'altro e speriamo di riportare alla luce anche questi altri lavori di Fra Damiano l'altro personaggio importante per di committenza laica è Francesco Guicciardini che fu governatore di Bologna dal 1531 al 1534 anche lui ammira l'operato dell'intarsiatore come ci riferisce il Vasari e gli commissionò alcune belle capricciose fantasie di vari disegni di mano di Jacopo Barozzi da Vignola delle quali una è il ritrovamento di Mosè e di questa l'abbiamo la Tarsia è sempre al Metropolitan di New York perché si sa queste cose poi girano e si ritrovano poi per fortuna conservate nei musei il ma per il Guicciardini i frati del convento di San Michele in Bosco vicino a Bologna fanno realizzare al converso un tavolo che finora era l'unico tavolo completo a conoscenza degli inizi del Quattrocento del Cinquecento scusate perché abbiamo detto era a Bologna tra il 1531 e il 1534 e si nota come fra Damiano utilizzasse fin dal suo inizio a Bergamo i disegni di architetti soprattutto per le composizioni di discorci architettonici e composizioni geometriche secondo il Vasari tra questi architetti si possono onoverare il Serlio o il Vignola che secondo appunto il Vasari inventò belle e capricciose fantasie di vari disegni fatti per la più parte a requisizione di Messer Francesco Guicciardini allora governatore di Bologna ed alcuni altri amici suoi i quali disegni furono poi messi in opera in legni commessi e tinti ad uso di tarsie da Fra Damiano da Bergamo dell'Ordine San Domenico in Bologna quindi il tavolo è documentato a questo intreccio di disegni geometrici come lo erano poi lo vedremo anche i tavoli ben più famosi ma che venivano realizzati a Roma con l'intarsio di marmi antichi quindi questo invece con l'intarsio di legnami e poi ritorneremo sul tavolo e alla fine arriviamo al nostro Sabba Castiglione che era amico intimo non a caso del Guicciardini e quindi si scambiavano commenti anche sulle opere d'arte oltre che su temi filosofici Fra Sabba da Castiglione nacque nel 1480 e morì a Milano nacque e morì a Faenza nel 1554 quindi dopo il nostro intansiatore però la sua amicizia risale a ben prima tanto che pensando di morire prima dell'intansiatore lo nominò nel suo testamento e disponeva che alla sua morte si facesse fare un completo da religioso al frate Damiano Zambelli da Bergamo e dice uomo singolare e unico ai nostri tempi e queste attestazioni di stima ma anche di affetto verso il frate continueranno per tutta la corrispondenza e per tutte le memorie di Fra Sabba da Castiglione in quanto era stato un grande estimatore delle sue opere e possedeva una coppia di quadri di due teste una di San Paolo e l'altra di San Giovanni e Battista quindi era bravo anche nella ritrattistica non solo nelle tarsie a soggetto architettonico un quadretto e un quadretto di tavola cioè il nostro piano di tavolo che troviamo qui ancora oggi nel museo e questo questo testamento naturalmente morì prima e non se ne fece di niente il nostro fra Damiano fece poi un ulteriore testamento dove donava i suoi oggetti ed è stato analizzato da Dora Thornton che in un bellissimo articolo che dice le mie cose tra virgolette come citazione fra Sabba da Castiglione e i suoi oggetti per dire quanto lui amasse gli oggetti come abbiamo visto nel quadro di Carpaccio nella veduta di San era San a Tragostino nell'interno che era circondato da tutti gli oggetti del suo collezionismo ecco anche fra Sabba da Castiglione amava i suoi oggetti e affinché non andassero disperse le lascia in testamento alla città di Faenza prima al suo ordine e poi dopo nell'Ottocento passano al museo un vaso antico di alabastro un busto di marmo raffigurante San Giovanni Battista che lui attributiva a Donatello un San Gerolamo in terracotta oltre ad un piano di tavola in tarsiato che qui vedete e poi vi erano anche delle armi quali un pugnale con l'elsa intagliata da Fra Damiano ma probabilmente si sbagliava perché confondeva Fra Damiano con il fratello Stefano che era intagliatore invece non intagliatore una scimitarra ageminata e due scudi ageminati quindi questo è importante la descrizione di queste armi ageminate cioè con intarsi in oro che probabilmente riprendevano l'arte islamica il Fra Damiano scusate Sabadas Castiglione si formò all'università di Pavia in legge filosofia e teologia nel 1505 per fare un attimo un riassunto della sua vita all'età di 25 anni decise di entrare nell'ordine dei cavalieri gerorosomitani del quale divenne presto vice procuratore generale fino al 1508 con questa carica fu a Rodi e poi si trasferì a Roma dove coltivò l'arte dei studi sull'arte sulla letteratura e decise di lasciare la capitale degli stati pontifici per trasferirsi tra il 1515 e il 19 a Faenza dove morì come abbiamo visto nella città si dedicò allo studio al mecenatismo e alle opere di assistenza come prevedeva il suo ordine acquistò libri quindi la figura di grande intellettuale che rimase in corrispondenza con altri eruditi dell'epoca istituì una scuola pubblica gratuita per i bambini poveri aprì un ospizio abbellì la chiesa di Santa Maria Maddalena nel borgo di Durbecco dico bene è vero di cui divende commendatario e dove scusate dove dovrei avere ecco dove vi è l'affresco che lo rappresenta inginocchiato tra le sue armi come veniva ad un cavaliere e in un'incisione invece dove è rappresentato all'interno del suo studio del suo studiolo intento alla lettura dei testi e questo l'opera principale di Frasabba sono i ricordi e proprio dai ricordi noi ricostruiamo la vicenda del tavolo anche di Faenza i ricordi si intitola per il titolo per esteso ricordi ovvero ammaestramenti di Monsignor Sabada Castiglione Cavaliere Giero Rosomitano nei quali con prudenti e cristiani discorsi si ragiona di tutte materie onorate vide la luce nel 1554 a Venezia dai suoi scritti e dalla collezione disposta nella sua abitazione che si chiamava La Magione se ne ricava proprio la figura di un importante moralista antiquario e collezionista per gli oggetti d'arte avevano il merito di sviluppare in chi li possedeva in chi li ammirava ingegno scrive lui politezza civiltà e cortigiania pubblicati nel 54 come vi ho detto questi ricordi il libro pensate la fortuna che ebbe conobbe ben 25 edizioni fino al 1613 e qui si trova un appassionato elogio di Fradamiano nel ricordo 109 circa gli ornamenti della casa sabba l'ode i lavori in tarsia che in quella prima metà del 500 avevano raggiunto una tale perfezione da potersi e qui cito dire essere una nuova pittura eccellentemente colorita senza colori e da qui ho preso il titolo di questo nostro incontro cosa che era molto ammiranda e per questo destava la meraviglia negli intenditori d'arte tra i vari artefici Fradamiano infatti era quello che eccelleva in tingere legni e in qualsivoglia colore e in contrafare pietre macchiate e mischie e poi analizzando i piani vedremo come faceva siccome è stato in sino agli secoli nostri unico e così penso che agli futuri sarà senza paro tale padronanza tecnica abbiamo visto può essere riscontrata nel piano del museo di Faenza nel piano già appartenuto a Sabba che ha attraversato diverse traversie e quindi manca molto lacunoso ma possiamo poi notarlo ancora meglio in questo tavolo di collezione questo piano di collezione privata che si è conservato meglio e che presenta molte analogie col nostro e con le opere in genere dell'artista dell'intarsiatore il piano come vedete è intarsiato in legno di olmo faggio acero noce quercia ebanizzata e varie radiche e nel suo disegno risulta sensimile alcuni particolari decorativi presenti nelle tarsie dei coro e del tavolo di Faenza e probabilmente deve essere stato commissionato da qualche altro colto committente sempre dell'area qui emiliana possiamo poteva essere padre Leonardo Alberti che abbiamo citato l'umanista bolognese che visse con Fradamiano nel medesimo convento di San Domenico e che promosse la spalliera del coro di San Domenico oppure il citato padre Foscarari grande stimatore delle opere dell'intarsiatore che ne scrisse l'eloce e questo padre Foscarari ricoprì un incarico anche importante come maestro del sacro palazzo in Vaticano quindi penserei che una di queste due personalità fosse potrebbe essere il committente di questo tavolo i legni il piano che abbiamo detto si compone di una fritta trama di intarsi geometrici i legni come vi ho detto vengono dal nord Italia l'omno come ad esempio l'olmo e la sua radica per parte di quelli che sono gli sfondi il faggio per alcuni dei riquadi la radica di noce per le losanghe della bordura che vedete tutto intorno e il il legno di quercia ebanizzato avevo detto cosa vuol dire è un legno di quercia che per raggiungere il nero dell'ebano veniva immerso nelle acque e lasciato lì per a lungo per molti anni e questo processo non lo faceva marcire ma lo faceva scurire e quindi anche se voi provate a versare su un tavolo di quercia di rovere dell'acqua del liquido vedete che si scurisce subito e questo scurimento avviene attraverso questo motivo e che è una tecnica proprio realizzata qui nell'area emiliana per utilizzare poi un legno che doveva sembrare al più costoso ebano che doveva essere trasportato dall'Africa e poi alcune altre parti sempre in nero furono realizzate in pasta in uno stucco e questo si trova anche nelle tarsie dei cori quindi era un materiale che usava fra Damiano usava abbastanza spesso e di fatti vediamo più da vicino alcuni particolari vedete che ci sono alcuni ora qui forse riesco con laser ci sono alcuni tondi questi qui questi tondi che sono realizzati con un mischiando vari pezzettini di radiche di legni diversi alla fine di emulare i marmi antichi come si vede poi nelle paraste vedete delle tarsie utilizzate nel coro di San Domenico il la altro elemento tipico del abbiamo detto già che era stato notato questa sua capacità di contraffare in legno i marmi antichi altra sua dote era quella della delle decorazioni che dividono queste scusate queste questo tipo di decorazioni che potremmo chiamare damaschinature in impasta di stucco scura che soprattutto presenti sulla mobiglia questo tipo di ornato ricavato dall'islam dalla cultura islamica dalle cose provenienti dalla Turchia e dal Medio Oriente dagli oggetti spade appunto scudi ciotole e altri oggetti anche di uso comune le troviamo anche poi nel nel dossale di San Domenico lo stesso decorazione e quindi questo tipo di decorazione può averlo visto che abbiamo visto poi anche fra Antonio Lungiana lo usa nelle sue porte quindi diventa un po' una sigla di ornato che gira nella bottega e tra gli aiutanti anche di fra Damiano è un tipo di ornato che viene ripreso viene inciso vedete proprio tra il 1500 all'inizio diciamo 1520 30 dal da Francesco Pellegrino in un repertorio di incisioni già nel 500 giravano molto fin dall'inizio del 500 questi repertori di incisioni di ornato che dovevano servire proprio non solo agli intarsiatori ma agli orafi agli scultori a qualsiasi agli intagliatori e questo si chiama si intitola queste immagini che vi ho preso da questo ornato di Francesco Pellegrino da questo repertorio la fleur de la chance de Portecourt cioè proprio una una serie di ornati ricavati dall'arte islamica con disegni diciamo che allora apparivano esotici che girò per tutta l'Europa e non è detto che proprio il nostro intarsiatore potesse averle viste nella biblioteca di Frasabba da Castiglione il quale aveva contatti anche col mondo artistico e e e quindi essersi ispirato anche a questi a questo tipo di di incisioni per i suoi ornati il lungo il bordo poi dei nostri due tavoli sia quello del di collezione privata sia quello del museo sia anche lungo le fasce del coro di San Domenico ci sono questa certa di decorazione vedete all'osange che con dei legni variegati all'interno che viene ripreso secondo dal gusto dell'epoca come vi dicevo dagli intarsi e dalle bordure che venivano realizzate proprio a Roma agli inizi nella prima metà del Cinquecento sui tavoli in commesso in intarsio di marmi antichi e poi più tardi in pietre dure a Firenze il questo è un tavolo sempre di manifattura romana che si trova ora a Palazzo Pitti e fu eseguito proprio durante la prima metà del Cinquecento per il cardinale Ferdinando prima che diventasse Granduca quindi di Toscana e andiamo ad analizzare i motti che ci sono le iscrizioni in entrambi i tavoli che è l'altra cosa che è in comune tra i due tavoli nel nostro nell'esemplare in collezione privata i motti si riferiscono non li sto a leggere in latino ma nella traduzione per non annoiarvi nella traduzione che abbiamo fatto insieme a degli amici latinisti si riferiscono alla perfezione del lavoro di intarsio e dice il primo guardate di agghindare altre mense con tovaglie di fili d'oro che questa risplende di più nella sua propria bellezza alla designazione del tavolo all'interno di uno studiolo in quanto essere dedicata al dio clario epiteto con cui era anche chiamato Apollo benché non rifulga come altra di molto oro la tavola è tuttavia questa tavola da dedicarsi al dio clario ed infine il terzo motto alla bellezza dei suoi ornati che dovevano ravvivare accompagnare il lavoro intellettuale di chi sedeva a questo tavolo riaccende il tavolo quei sensi corporei e dolci come amici e con la penna e con il tavolo da studio assegna il lavoro dove c'era un dato ufficium che mi hanno spiegato si può intendere come espressione di assegnare un dovere un obbligo dal punto di vista filosofico quindi teniamo conto quindi non un dovere materiale ed infine ad una conversazione equilibrata e questa mi piace ancora di più tendente ad esaltare l'amicizia e la convivialità convitato non sparlare delle vite degli uomini ma delle vivande se non lo fai questo tavolo non sarà preparato per te e questo carattere così intellettuale dell'opera non poteva non andare ad un ad un amico di Frasabba qualcuno in contatto anche della sua cerchia e anche il piano appartenuto a Frasabba ha al centro vedete entro diversi cartigli delle delle iscrizioni latine che sempre secondo la traduzione che abbiamo fatto recitano così la natura si contenta del poco e dell'agevole l'altro la temperanza temperanza dell'anima e del corpo è certissima salute un'altra ancora la frugalità comandi sempre sui piaceri e l'ultima considera spesso che fugaci sono i piaceri quindi vedete sono quelli che nell'ottocento erano definiti mobili parlanti in qualche modo cioè nell'ottocento venivano realizzati i propri mobili con iscrizioni oppure con dagli intarsiatori della seconda metà dell'ottocento riprendendo il gusto del cinquecento con vedute con allegorie che dovevano incitare alle azioni virtuose il il tavolo per tornare sempre a quello che avevamo già l'analisi stilistica del tavolo di questi tavoli per far vedere come in tutti e tre gli esemplari tornano dei motivi decorativi del tavolo questo è il tavolo di nuovo di Francesco Guicciardini al centro vi è lo stemma come c'era anche nel tavolo di Frassabba da Castiglione tutti i due recano lo stemma il nostro non reca lo stemma quindi probabilmente non era appartenuto a un nobile ma a un frate appunto uno di quei personaggi che ruotavano intorno intellettuali che ruotavano intorno a San Domenico il presenta dei piccoli intarsi ottagoni nei quali viene utilizzato tra l'altro al centro vedete il nero lo stesso tipo di legno ebanizzato che forma anche la parte esterna sia del tavolo Wicciardini possiamo vedere qui che ha tutti elementi floreali sia il bordo del tavolo in collezione privata se l'aggiunta oltre a queste losange di cui abbiamo già detto di elementi floreali rari nell'opera del frate ma non tanto perché abbiamo visto che faceva anche nature morte faceva ritratti eccetera quindi era specializzato un po' in tutto ma quello che è interessante è invece la parte centrale del tavolo in collezione privata che presenta un intreccio che è un ulteriore approfondimento dell'intreccio nel coro di San Domenico e vedete lo stesso anche un intreccio nel tavolo di Faenza un intreccio ideato come un sottile reticolo che da una trama centrale finissima si evolve ingrandendosi verso l'esterno creando un illusionistico effetto tridimensionale e questo lo ritroviamo anche in diciamo come come motivo decorativo anche in un tavolo più tardo un tavolo della metà del Cinquecento è un tavolo importante impiallacciato a questo punto di ebano con un disegno in avorio di aspri all'interno del disegno e fu probabilmente eseguito su disegno del Vasari verso la metà del Cinquecento a Firenze e vedete che è presente allo stesso motivo decorativo a intreccio come quello di Frassabba perché probabilmente tutti se anche Frassabba ha visto questo bizzarro capriccio di intrecci geometrici che aveva già concepito Leonardo nei suoi disegni e che furono resi note attraverso delle copie di Albrecht Durer incise proprio da Durer intorno al 1507 quindi siamo in anni giusti per Fradamiano e torniamo sempre Frassabba da Castiglione nella sua biblioteca poteva aver avuto questi repertori di incisione sicuramente essendo in contatto con la vicina Venezia Ferrara con gli scambi che c'erano all'epoca e e quindi direi che questo questo queste opere di Frassabba da Castiglione costituiscono poi quello che è la base per la realizzazione di arredi di veri e propri arredi da destinare agli interni delle residenze aristocratiche principesche come si può vedere dal tavolo del Vasari che doveva essere destinato a una residenza medicia di sicuro oppure un altro oggetto straordinario lo stipo di custozza che ora conservato al Victoria and Albrecht che fu eseguito probabilmente per Carlo V intorno al 1532 quando il sovrano fu ospite a Mantova di Ferrante Gonzaga che allora era stato nominato proprio dall'imperatore cavaliere del Toson d'Oro e le tarsie sono proprio ispirate alla mitica conquista del Vello d'Oro oppure più tardi mobili come questi veneziani tutti rivestiti da una fritta trama di intrecci in avorio e madreperla oppure ancora questi poi derivati dal gusto nordico eseguiti a Napoli alla fine del Cinquecento da Jacopo Flamengo non a caso veniva dalle fiandre in ebano e avorio inciso e quindi questi saranno d'ora in avanti la mobiglia e di queste abbiamo diverse notizie che arrederanno le case dei principi le stanze dei principi però ecco mi piace concludere questo nostro incontro con quello che sempre ha detto Sabba da Castiglione circa l'arredamento sul decoro delle stanze delle stanze di un intellettuale o di un principe anche e gli ha detto scrive appunto sempre nelle sue memorie ma soprattutto chi le puote avere queste sale le appara e tadorna con le opere piuttosto divine che umane del mio padre frate Damiano da Bergamo dell'ordine dei predicatori il quale non solo nella prospettiva come questi altri buoni maestri ma negli paesi negli casamenti negli lontani e che più è nelle figure fa con il legno tutto quello che appena farebbe il grande a pelle con il pennello anzi a me pare che i colori di quei legni siano più vivi e più vaghi di quelli che usano i pittori grazie grazie grazie